Sono mesi, solidarietà senza nessuna differenza, solidarietà perché non può essere che la differenza la faccia dove si nasce in questo mondo, perché di questo stiamo parlando, solidarietà perché ci sono delle emergenze mondiali come il Nepal, ma anche purtroppo come quello alle porte di casa nostra che è l'emergenza emigranti che muoiono a centinaia tutti i giorni nel nostro mare. E quindi questo è quello che credo che sarà il sottotesto della musica, della grande festa comunque perché rimane una festa, ma credo che attraverso una festa, una musica e una piazza potente come quella di San Giovanni a Roma possa passare un messaggio molto forte, a parte il divertimento, la musica, il concertone, i momenti di intrattenimento, però deve passare un messaggio. Una domanda che non ti hanno mai fatto, come ti senti a conduire il primo maggio? No, sono molto contenta, inizia un po' di ansia, come è normale prima delle grandi dirette, prima dei grandi eventi, poi mi conosco perché ne ho fatto qualcuno, non di primo maggio, ma insomma di alti, grandi concerti per altre reti e so che il momento più di ansia è la prima uscita, è pochi minuti prima della prima uscita.